Bene ragazzi è arrivato il tecnico e ha sistemato internet nel senso che è migliorato ma il ping tra virgolette è peggiorato nel senso che è più stabile rispetto a prima però funziona bene comunque meglio di prima e quindi si può giocare almeno a quello E bello a tutti ragazzi io sono Massive e oggi siamo qui con un nuovo video su Rainbow Six Siege mai portato sul canale un gameplay fatto da me da solo in una partita così senza magari troppe troppe cose magari ci sono gente che parla, casini, live streaming e quello che serve insomma ho deciso di farlo qui anche perché così avete una qualità migliore e magari vi spiego anche qualche dinamica di gioco un gameplay semplice anche perché ho voglia proprio di giocarci quindi è meglio di niente insomma giusto una notizia in più a breve arriverà anche il video su Wildlands quindi si su Wildlands non sarò da solo lì e sarò in compagnia e ci divertiremo un sacco ve lo assicuro prima di tutto io direi di partire con una bella libera allora io direi di partire subito con Buck Buck o Blackbird Buck facciamo con Buck e come avete visto ci sono un sacco di operatori io ne ho sbloccati solo tre quarti circa e non tutti quanti anche perché costano i sordi i sordi bisogna lasciare giù il denaro tac 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 dove c'è il portafoglio non c'è il portafoglio il denaro tac 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 ok andiamo via di cattiveria aspettate un attimo qui c'è un cavo se no non stiamo facendo spawn kill perché altrimenti mi incazzo ok niente nessun spawn kill così mi piace olla certamente ci sarà ci sarà qualcuno qui o è la prevedibile un attimo che abbassiamo un po' l'audio perché ok dove la telecamera tac ok una cosa di base tipo distruggere le telecamere così non possono beccarti ok drone oppala vediamo chi c'è qua dentro non c'è nessuno ok mi sa che qua dentro c'è un po' di gente madonna che paura ok ho fatto la cappellata prossimo round rinforziamo qua e anche qua no 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 vado a sennò non entriamo più wow capito no 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 via da qua via da qua via da qua no non posso neanche perciò lo scudo che due palle qui si vedete chiedendo perché ho preso la cianca perché adesso vedrete vediamo se arrivo qualcuno dalla porta principale spero di sì ok arrivano tutti dall'altra parte della casa c'è qualcuno sotto c'è qualcuno qui sopra figlio della merda lo sapevo che era lì adesso ci facciamo il culo per culo e però vaffanculo eh mori stronzo queste facce di merda sono sicuro eccolo era massive era qua era qui il bastardo ora non so se se ne è andato però non penso di solito non se ne vanno così guarda dove hai la faccia di merda aspetta aspetta vado su col drone niente ah è andato ok no mi ha sciuttato mi ha sciuttato mi ha sciuttato no ho fatto la cappellata ho fatto la cappellata va beh sarà il prossimo round ok guardalo trappola qui drone qua trappola qua che trappola qua ma ragazzi adesso entro non da lì o da qua visto ok sono qui mamma vabbè c'è che paura qui c'è sledge ma sto qua li stanno uccidendo tutti col coltello oh 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 dai me l'ha ucciso c'è qualcuno qua è fuori bastardo è doc no è ruc è doc è doc siamo più doc dai cappellino vieni dai come mi ha ucciso mi ha anche ferito dai siamo tre è un abbandonato è un abbandonato ma dai lo ucciso con la trappola dove l'ha presa è entrato da lì si è beccata la trappola loser ok no ok vabbè allora io punto qua tac invisibilità e poi diciamo che non entrino da questa parte perché altrimenti qui al fuck io sto giocando un po' più serio questi che stanno giocando al caso e io almeno piace anche al caso ok come dio molto probabilmente entreranno correndo perché sanno che ti vanno vinto dancers è sotto anche sotto le scale non è che è entrato proprio correndo via è dentro è dentro è dentro dai l'ho ucciso 7-4 è perso dai bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lo so che non è un video normale non è un gameplay divertente ma magari qualcuno può interessare si magari guardare quel gameplay fatemi sapere nei commenti se vi interessa ancora vedere dei video del genere dei video così a 60 fps anche perché a 60 fps magari così per capire un po' le dinamiche di gioco di Rainbow Six Siege quindi ragazzi grazie a tutti lasciate un like lasciate un commento lasciate tutto quello che volete anche mi raccomando mi piace la pagina facebook e che dire ciao a tutti e ciao 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 ciao